Wow wow ragazzi, tutti insieme, forza Vestone! Eccoci qui nell'area YouTube del convento di Lonato di Brescia, siamo in compagnia della classe 85 da Vestone dalla bellissima provincia di Brescia! Non ho sentito? Provincia di Brescia! Oh bravo, peccato che non c'è qua il mio collega butta fuori di Verona, se non lo facevano sentire bene da dove venivamo. Allora ragazzi, siete divertiti quel convento di Lonato? Sì! Ok, grandi grandi, che canzone potete cantare? Gianni! Gianni! Gianni, quindi quanti anni avete voi? 26! 85! 27! Allora, ragazzi siete stati? Siete stati ripetenti a scuola? L'età non cambia, l'età è sempre quella. Chi è stato? Chi è ripetente? Sulla mano i ripetenti? Faccio prima a far alzare le mani a chi mai è stato bocciato mi sembra. Ah no, allora la maggior parte sono bravi. La ragazza vestita di rosa, come si chiama? Jennifer! Jennifer Lopez, wow! Come mai questa scelta di un colore così estivo, in un periodo così freddo? Perché mi tiene caldo! Sei senza calze! Ma guarda che mi tiene pallido! E non solo! E non solo senza le calze! Attenzione! Quindi si può dire anche dove non batte il sole, eh? Bene, bene! Allora, meglio cantare perché se si vede dove non batte il sole è un pericolo. Grazie! Ma che bello il conto è qui! E che arriva addosso! Oh, sto stesso bar, stessa gente che viene dentro consuma poi va. Non lo so che faccio qui e scontro. E vedremo i vari dell'auto che mi guardano, sembrano chiedermi chi sentiamo noi. L'ordine non è reale, gli anni dei fidei se dirai mai, gli anni delle mezze e compagnie, gli anni di motorino sempre in due, gli anni di che meglio erano i film, gli anni delle Rogers come Gigi, Gli anni dico sì e sì cosa fai, gli anni dentro qui noi siamo qui noi. Stessa storia, stesso posto, stesso bar. una coppia che vuoi, la scusa fa la metà, come va? Salutano, così si vede. Sì, siamo qui le manifestone!!! E se il sole sfide alle vina di due, che porto giù la potrei sedere io qualche anno fa. Gli anni d'oro del grande real Gli anni d'evidenza e di Racbal Gli anni delle intense compagnie Gli anni motorino sempre in due Gli anni di ghettacchi e da sweg Gli anni di rome e syr Non c'è problema, vai! Vestone! Gli anni del tranquillo, tranquillo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.